Don Rocco, vicario della Diocesi Isernia Venafro, questi giorni si celebrano i 10 anni di permanenza alla guida della nostra Diocesi, Monsignor Camillo Cipotti. Che auguri possiamo fare? Prima di tutto ci uniamo alla sua persona per ringraziare il Signore per questi anni che Lui è stato presente ed è presente e ci auguriamo ancora per tanti anni in mezzo a noi. Una giornata di preghiera, una giornata di riconoscenza a Lui, una giornata in cui, ecco, possiamo esprimere con la nostra vicinanza, con la nostra preghiera, con la gioia da parte di tutto il clero, di tutta la Diocesi, ecco, il nostro impegno a essere con Lui, a stare con Lui, perché è una parola bella che ci ha detto all'inizio che dovevamo lavorare insieme e che possiamo ancora per molti anni lavorare insieme a Lui per rendere sempre più bella questa nostra Chiesa locale, renderla secondo... Grazie. 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 Grazie.